Si chiama Alex Osterman, è una donna di 43 anni di età, ha ben tre figli e purtroppo è letteralmente rimasta con un segno marchiato a vita perché ha partecipato a una festa in giardino. Si trovava con alcuni suoi amici molto cari quando a un certo punto in questa festicciola che è stata organizzata ad hoc purtroppo è divampato un incendio. Non è riuscita a fuggire da queste fiamme che sono letteralmente divampate, si è risvegliata infatti in ospedale sei settimane dopo e soltanto in quel momento ha capito e si è accorta di quello che era effettivamente parlando accaduto al suo corpo. Vive a San Diego, richiestati in America, ha riportato ustioni gravissime sul 60% circa del suo amabile corpo. Tutto quello che vi sto raccontando si è verificato nell'anno 2020 ma ha voluto rendere tutto evidente e di recente la donna in questione. Lei ha anche perso la memoria, ci sono stati momenti drammatici per lei alla fine però è riuscita a ritrovare la memoria perduta o mai o persa. In sua compagnia l'ex marito che comunque nonostante sia stato e sia ex è rimasto al suo fianco in maniera attenta, meticolosa e garbata per fare in modo che la donna recuperasse la memoria come voglia effettivamente parlando è stato. Pensate che ha compiuto più di 10 innesti di perle nuova per far sì che andasse ad essere ricostruita in maniera attenta e soprattutto visibile. Ovviamente quello che è successo a questa donna è qualcosa di assurdo e di incredibile, pensate che aveva delle enormi cicatrici che in qualche modo facevano pensare ad una lontanissima guarigione. Ma grazie a questi innesti di perle la donna sta leggermente meglio nonostante porti comunque in sé danni piuttosto espliciti. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, vicinianza piena e totale ad Alexa Osterman, donna di 43 anni di età, per quello che è successo a lei. Un caro saldone e una buona giornata a voi. Grazie.